Ancora la cronaca, una bambina di 8 anni è scomparsa da ieri a San Giovanni Teatrino dopo essere stata a casa degli zii che incontrava per alcune ore dopo l'arresto dei genitori avvenuto il 19 aprile scorso con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti della minore. Si sono perse le tracce appunto come detto da ieri come riporta il quotidiano Il Centro nell'articolo a firma di Gianluca Lettieri. La polizia naturalmente la sta cercando ovunque. La notizia tra l'altro aveva fatto scalpore anche perché i genitori facevano dormire la piccola nella stessa stanza da letto in cui erano stati trovati panetti di droga, una pistola a tamburo calibro 22 carica e un'altra pistola a forma di penna. A seguito degli arresti dei genitori, il Tribunale per i minori dell'Aquila aveva affidato la minore ad una comunità in alcune fasce orarie e nel fine settimana proprio agli zii.